Positivi i dati diffusi da IMSS sul mercato occupazionale in Abruzzo nel 2023. Con un saldo netto occupazionale positivo tra il numero delle nuove assunzioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro. 190.199 nuove assunzioni con il 21,5% dei lavoratori stranieri a fronte di 177.666 cessazioni con un saldo netto di 12.533 unità lavorative. Tra i settori occupazionali presi in considerazione ci sono agricoltura, manifattura, costruzioni e poi commercio, trasporto e magazzinaggio, i servizi di informatica e comunicazione oltre ad attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari e amministrazione pubblica e difesa. Sono aumentati i rapporti di lavoro a tempo determinato da 81.338 del 2022 a 84.344 del 2023. e quelli di lavoro stagionale, mentre sono lievemente diminuiti i contratti di lavoro a tempo indeterminato. 31.410 nel 2022, 30.648 nel 2023. Cresce il tasso di occupazione in Abruzzo dal 58,4% nel 2022 al 61,3% nell'anno successivo. Prima tra le province quella di Teramo con un tasso di occupazione al 63,2%, seguono Chieti e Pescara rispettivamente 61,7% e 60,8%. Infine l'Aquila con un tasso al 59,6%. Emerge infine il dato preoccupante dei cosiddetti NIT. In Abruzzo il tasso dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non si formano, attestato al 2023, si punta al 15,2%. Grazie. Grazie. Grazie.